La parola d'ordine e salute oggi e domani. Il mio obiettivo è il tuo benessere fisico, fisichico ed estetico per vivere al massimo della tua potenzialità. Benvenuto in questo video, sono dottoressa Amalia Karbalaia Morad, direttore sanitario di Villa Venus. Mi occupo da 30 anni di medicina e chirurgia estetica, come dico sempre, la tua salute e bellezza è la mia passione. Quando avevo iniziato a praticare la medicina estetica, 30 anni fa, mi sono reso conto che i trattamenti estetici localizzati che facevo erano efficaci solo per brevi periodi. In poco tempo mi ritrovavo tutto come prima, se no peggio, perché comunque letava avanti per tutti, invecchiando di minuscolo le nostre risorse. Ho deciso quindi dedicarmi alla ricerca approfondita di utilizzare più metodi insieme per ringiovanire le cellule dall'interno, facendo educazione alimentare, per permettere di portare in equilibrio l'intestino e il corpo, che indirettamente aumentiamo le difese immunitarie. Poi educazione cosmetica, con i cosmesi funzionali, ho creato il kit di prodotti mali cosmetic con tre prodotti, e il dermarol per compattare e dare luminosità alla pelle. Poi più educazione dei integratori, facendo solo un test semplice, il test genetico con tampone salivare, proprio per personalizzare gli integratori mancanti. Alla fine educazione fisica per mobilizzare l'articolazione, attivare il microcircolo e il metabolismo attraverso le terapie per attivazione del microcircolo. E così i miei pazienti dimostravano veramente un miglioramento di duratura efficace dei miei trattamenti, che abbiamo lavorato sulle cause e non più sui sintomi. Perciò tutti i miei studi di varie discipline mi hanno portato ad una medicina estetica preventiva, correttiva ed educativa a 360 gradi, per stimolare i miei pazienti di avere più conoscenza e consapevolezza che il 60% del loro invecchiamento dipende dall'ostere di vita ed altri 40% agenti esterni come virus, come sole, per disposizione genetica. Finalmente ora mi sento soddisfatta e ho trovato quello che cercavo. Ormai sono da tanti anni, ho creato dei pacchetti, percorsi, trattamenti viso e corpo che agiscono per davvero sui motivi per cui i tessuti prima si infiammano, poi si invecchiano. Così ho trovato tutte le mie risposte, ovvero che esiste veramente un stretto rapporto di alimentazione e prevenzione genetico, eterna giovinezza. Per questo che ho deciso ora condividere con te i miei percorsi di salute, bellezza e benessere personalizzato con dei quiz che rispondendo alle mie domande puoi avere subito il tuo piano di come agire per migliorarti e potrai avere anche subito una prima visita gratuita che avrai il tuo percorso personalizzato. Ti aspetto a presto, grazie. Un abbraccio. Un abbraccio.